Un buongiorno, ben trovati, ben svegliati. Con la nostra rassegna stampa, quella di mattino 6, siamo pronti per andare a leggere i quotidiani di casa nostra, i principali quotidiani nazionali. In questa prima parte, ovviamente spazio alle prime pagine, alle vetrine dei quotidiani che già trovate in edifico di questo mercoledì 10 ottobre, in cui l'apertura del centro edizione di Pescara, che andiamo a leggere, è dedicata ancora alla rapina in villa dei coniugi Martelli, assalto in villa, intrappola il capo coniugi pestati a Lanciano, arrestato in Romania, la figura di spicco della gang. Vi anticipo già che poi, nella seconda parte, vedremo anche il servizio di riassunto proprio su questa vicenda, ma soprattutto sull'ultimo arresto, quello del capo, la figura, come leggiamo, di spicco di questa gang, che è stata protagonista qualche giorno fa dell'assalto in villa ai coniugi Martelli a Lanciano. Nei box in alto, i progetti del Masterplan, fondi bloccati e proteste, Lolli dice che la legge va modificata. Emergenza abitativa in Abruzzo, gli sfratti sono in aumento e oggi ci sarà la protesta degli inquilini. La foto notizia, azienda Edile assume muratori acrobati a Pescara, nuovi posti di lavoro, ecco, mansioni e stipendi. Apre i battenti anche in Abruzzo, a Pescara, la sede di edilizia acrobatica. Il taglio del nastro è previsto per il 20 ottobre. La ricerca del personale è cominciata, annuncia Angelico Rizzo, responsabile dell'area Abruzzo. In una prima fase troveranno lavoro otto persone, poi ci saranno altre assunzioni. Questo lavoro è evidentemente un po' particolare, però di cui c'è bisogno. Nelle cronache, sempre a Pescara, bar e ristoranti, nuove regole per i tavoli fuori, nuove regole per i deor, gli spazi esterni di bar e ristoranti e di quelle attività dove il consumo di alimenti e bevande avviene sul posto. La disciplina è approdata in Commissione Commercio. E' sempre a Pescara, ascensore rotto, studente disabile, non va a scuola. A Montesilvano, tassa di soggiorno, ennesimo no, degli albergatori. Ci spostiamo a Brittoli, soldi spariti, l'ex sindaco sotto accusa, chiesti un anno e due mesi per Di Paolo, denunciato da un milionario. E poi dall'altra parte la Minerva, l'Università d'Annunzio premia Mogol e Bruno Vespa, vincitori dell'Ordine della Minerva. Cerimonia il 12 dicembre all'Ateneo d'Annunzio a Chieti. Questa è la prima pagina dell'edizione di Pescara, andiamo sull'edizione di Teramo, ovviamente cambia l'apertura, molte cose restano simili. Vediamo l'apertura dedicata al Teatro Romano, svelato il progetto. A Teramo, ovviamente siamo a Teramo, cavea da 600 posti e una pellicola trasparente sui resti. La foto è dedicata a questo signore di Roseto, una storia piena di speranza, la nuova vita di Osvaldo ha sconfitto tre tumori. Osvaldo Diomede, 79 anni, il giro di 8 anni, ha superato tre tumori. Al colon, al fegato e a un polmone, grazie a terapie e interventi chirurgici, racconta la sua storia. Nelle cronache, il caso Gran Sasso, il procuratore, acqua insicura, servono dei lavori, il procuratore guerriero evita allarmismi, l'acqua si può bere, non è inquinata, ma invita gli enti a sistemare le interferenze tra acquifero, laboratori e autostrada. A Giulianova trova 400 euro e li restituisce a una pensionata, a bel gesto di un giovane commerciante che ha portato il portafoglio di una signora alla caserma dei Carabinieri. Elezioni provinciali, è D'Alonso il candidato scelto dal Partito Democratico per le prossime elezioni provinciali a Teramo. Assalto Shock in Villa, come vedete l'apertura del quotidiano, l'apertura di Pescara la troviamo in basso invece nell'edizione di Teramo. Assalto Shock in Villa, intrappola il capo, coniugi pestati a Lanciano, arrestato in Romania, la figura di spicco della gang. Cambiamo, andiamo all'edizione di Chieti, Lanciano Vasto, ritroviamo la vicenda dell'assalto in Villa, il sesto bandito arrestato in Romania. L'apertura è uguale, il titolo è differente. Lanciano, assalto Shock alla Villa, in manette l'altro capo della gang e a questa notizia ovviamente è dedicata anche la foto. L'auto della polizia davanti alla Villa dei Martelli, in alto l'arresto, questo qui, di Marius Adrian Martin. Nelle cronache a Chieti, negozianti non solo asfalto, si ha i nuovi parchi. E poi a Vasto, l'area vastese crocevia della droga, è una delle considerazioni fatte dal presidente del Tribunale di Vasto, Bruno Gian Giacomo. Volley Ortona, siamo allo sport, la SIECO riparte, obiettivo è stare tra le prime quattro in classifica. Ci spostiamo a far a figliore un petri, cade dall'albero e muore a 58 anni. Fatale, un volo di oltre due metri, lascia due figli piccoli. Chiudiamo le quattro edizioni del centro con quella aquilana, l'Aquila Avezzano Sulmona, questa è l'apertura, tentato suicidio e usura, tentato omicidio, pardonne, usura, quattro arresti. Sulmona, intera famiglia dei guai, la vittima aggredita da una donna. La fotonotizia, sempre a Sulmona, sit-in di protesta contro il taglio del vecchio Pino. Vedete, queste persone che protestano si tengono per mano proprio per evitare di abbattere un albero secolare di fronte a Piazza del Carmine. All'Aquila, piano case, bollette, nessun salasso sui vecchi consumi. A Celano, due ambulanze devastate, dai vandali, sempre all'Aquila, calcio prima categoria, l'Aquila perde torre e tessera, l'Aquila perde torre e tessera subito, un altro attaccante come Maisto, e qui ritroviamo l'assalto Shock in Villa, intrappola il capo. Cambiamo quotidiano adesso, andiamo sulle colonne del messaggero, ovviamente la parte che riguarda la nostra regione, e ovviamente l'apertura è dedicata anche qui all'assalto alla Villa dei Coniugi Martelli, intrappola anche il sesto uomo, ecco qua, sottolineiamo meglio, arrestato in Romania, Marius Adrian Martin, considerato la mente della rapina in casa dei Coniugi Martelli di Lanciano, era riuscito a fuggire dopo il colpo stile Arancia Meccanica. A Teramo, il procuratore, l'acqua del Gran Sasso non è inquinata, guerriero rassicura, ma ora ci vuole la messa in sicurezza. In alto, vediamo nei box, l'Abruzzo che va a oltre un milione di presenze per il colosso Blu Sirena, a Chieti, a Vespa e Mogol, l'ordine della Minerva, della D'Annunzio, per lo sport calcio, Pescara, Mancuso guida la piccola cooperativa del gol che sta portando i bianco-azzurri in vetta alla classifica di Serie B, domenica, sabato e domenica, non si gioca perché c'è la sosta di campionato e quindi il Pescara si godrà per 14 giorni questo primato. A centro pagina, caso Masterplan, emendamento contro lo scippo, l'olio era assicurato dal Ministero per il Sud sulle risorse per i lavori sulle autostrade. A Giulianova, massacra di botte il figlio, denunciato un padre padrone. La fotonotizia, sfratti, Pescara, maglia nera d'Italia, sentenze esecutive aumentate per l'80% in un anno, l'Abruzzo è in netta contro tendenze all'interno della regione e l'emergenza è quella di Pescara. Le facce della crisi, boom di sentenze, il paradosso delle case sfitte. E poi il decennale del sisma, l'Aquila, comitato con Letta e Barca. Andiamo in provincia di Teramo adesso con la prima pagina del quotidiano La Città che apre con la sfida che ci sarà in provincia di Buonaventura d'Alonzo. Ufficializzate le candidature per la presidenza del sindaco di Notaresco da una parte di quello di Crognaleto, dall'altra in alto il monito del procuratore, niente più scuse per l'acqua del Gran Sasso e poi per il lavoro, l'allarme della Cisla a rischio centinaia di posti di lavoro. Giudiziari ai furbi della 104 davanti al giudice. Vediamo altre notizie. Per esempio nella foto la casa dei Teramani, il progetto Teatro Romano aperto al pubblico e agli spettacoli. Sotto andiamo in vibrata multe e fototrappole contro gli incivili. Giro di vite a Martinsicuro per combattere le discariche. Nei box di lato vandalismo il leone di Crocetti violato per la seconda volta. Vandalismo 2 staccionate rotte e pali di velti durante la notte. Per i trasporti matrimonio tra Baltur e Flixbus che dunque si uniscono a Roseto. Turismo affossato dalle tasse e dalle strisce blu. In basso siamo a Giulianova affidati i lavori per demolire le passerelle come vediamo e poi l'incontro per un ex campione del mondo Marco Tardelli il campione del mondo 82 si racconta a Montorio. Andiamo a vedere anche alcune prime pagine dei quotidiani nazionali ovviamente il DEF il documento di economia e finanza e soprattutto il parere non proprio favorevole di alcuni organi è la notizia che prende ampia parte delle prime pagine anche all'interno dei quotidiani. Questa è Repubblica la manovra non piace a nessuno Conte e aziende di Stato aiutateci Banca Italia e Ufficio Parlamentare di Bilancio bocciano il DEF Savona va cambiato se lo spread vola l'analisi di Claudio Tito il governo dell'assurdo e poi la foto notizia lascia Nikki l'ambasciatrice più amata di Trump ma non mi candiderò contro il presidente Nikki Haley che si pensava potesse essere qualora Trump non si ricandidasse tra due anni potesse essere il successore donna di Donald Trump alla corsa alla Casa Bianca per il partito repubblicano così non sarà evidentemente Corriere della Sera manovra il governo è sotto assedio vertice in serata con Conte si va avanti ma crescono i dubbi Di Maio contro Banca Italia bocciato da Ufficio Parlamentare Fondo Monetario Savona ipotizza modifiche Salvini limiamo e miglioriamo a centropagina il muro di Milano contro gli spacciatori i carabinieri presidiano la zona dove sta sorgendo il muro per impedire lo spaccio davanti al boschetto della droga a Rogoredo a Milano la barriera in costruzione vicino alla stazione è lunga 600 metri ed è proprio come vedete molto molto vicina ai binari della ferrovia la stampa Conte convoca a Roma i big delle aziende statali ecco il DEF adesso aiutateci Savona se lo spread ci sfugge la manovra cambia il vice premier non è vero parla il capo economista di Moody's con quei numeri a rischio anche il declassamento il rating delle agenzie di rating il fondo monetario taglia le stime del PIL l'ufficio parlamentare di bilancio dice le previsioni sono sbagliate e poi questa notizia molto particolare a Milano il ristorante dove la cena si paga con i follower domani sarà inaugurato il primo locale italiano dove il conto varia a seconda della popolarità ed evidentemente non è proprio per tutti il fatto quotidiano l'apertura è differente con la scusa del ponte i potenti di Genova battono cassa per sé assalto al decreto processione a Montesitorio per chiedere altri fondi la camera di commercio denuncia danni per 400 milioni per sanare anche vecchie pendenze l'autorità portuale vuole milioni per lavoratori e infrastrutture e poi bossi come B B come Berlusconi per evitare la cella va ai servizi sociali disse Terun a Napolitano in alto c'è l'apertura dedicata al DEF l'ufficio bilancio boccia il DEF conte le partecipate investano assalto alla manovra critiche anche dalla Corte dei Conti da Banca Italia dal Fondo Monetario Internazionale questo è il fatto quotidiano il messaggero ovviamente la pagina nazionale DEF bocciato duello nel governo alto la sui conti di Banca Italia tecnici dell'autority e Fondo Monetario Internazionale il Movimento 5 Stelle contro Via Nazionale Savona se sale lo spread cambierà la manovra Di Maio Salvini nessuna correzione vediamo anche quelle che sono altre notizie troppe buche il giro gira attorno a Roma tappe affrascate in Monte Rotondo ripariamo le strade per il 2020 ricorderete anche la polemica della tappa di Roma del recente Giro d'Italia in cui praticamente i corridori ad un certo punto hanno smesso di correre praticamente hanno fatto una passerella pur di evitare le tante buche presenti nella capitale gli ex preti al Papa aiutiamo la chiesa anche da sposati lettera a Francesco e alla Cei c'è crisi di vocazioni abbiamo moglie ma siamo utili nelle parrocchie il tempo in 4 all'ultimo stadio si torna sulla vicenda stadio della Roma corsa a sostituire Parnasi per l'impianto della Roma a Tordivalle l'interesse i due fondi esteri più Gavio e Girondi vicino a Danielli e Pallotta Puntini Puntini questa è l'apertura e poi Toninelli parla del tunnel che non c'è altro giorno altra gaff figuraccia si legge di Danilo Toninelli ormai un appuntamento quotidiano ha parlato del tunnel del Brennero che usano migliaia di imprenditori il traforo del Brennero ma è un traforo che non c'è ancora i lavori saranno terminati ad andare bene nel 2025 e comunque l'infrastruttura sarebbe destinata al traffico su rotaie insomma non proprio una gaffa abbastanza clamorosa Libero si chiama Tria ma vale zero fa figuraccia in Europa quando parla si alza lo spread perfino Borghi gli leva il microfono più che un amico di mercati uno spaventapassere l'ufficio di bilancio non valida i conti Di Maio e Salvini però tirano dritti l'analisi di Vittorio Feltri impoverire chi lavora per aiutare i poveri è una manovra folle debito si sperpero no dice il quotidiano proprio diretto da Vittorio Feltri in basso il governo si è dimenticato di donne bambini e anziani e poi razzismo linguistico chi dice nero è un'ipocrita che reputa il negro inferiore il manifesto fuoco di fila e vediamo perché Tria spiega in Parlamento le buone intenzioni sulla crescita ma contro la manovra è un coro di no l'ufficio parlamentare di bilancio non valida il DEF Banca Italia chiede di non toccare la legge Fornero la Corte dei Conti preoccupata il Fondo Monetario ribassa il PIL in serata riunione di emergenza a Palazzo Chigi Conte, Salvini e Di Maio la manovra non si cambia andiamo avanti peraltro oggi come potete leggere c'è proprio questa task force a Palazzo Chigi con gli amministratori delegati delle principali aziende italiane a cui il Presidente del Consiglio chiederà un aiuto la verità l'Inps paga i medici perché taglino le cure Boeri ha previsto risparmio di 80 milioni su pensioni di malattie e invalidità per centrare l'obiettivo da incentivi ai camici bianchi alcuni però protestano contrario al nostro giuramento poi Visco scende in politica e schiera Banca Italia all'opposizione il paradosso dell'obbligo flessibile il governo antivaccini li moltiplica per legge e poi in classe lavaggio del cervello promigranti l'ultimo episodio a Palermo complice il sindaco Orlando va dal Trentino alla Puglia è uno stillicidio vediamo anche alcune prime pagine dei quotidiani sportivi partiamo con Gazzetta dello Sport noi per Genova perché questo la nazionale abbraccia chi ha perso i propri cari Mancini che a Genova ha giocato praticamente una vita con la maglia blucercata della Doria sotto il ponte impressionante stasera a Marassi amichevole contro l'Ucraina il CT rilancia Verratti e prova il 4-3 con Chiesa Bernardeschi e Insigne ma come vedete c'è stata la visita degli azzurri proprio al ponte Morandi crollato lo scorso 14 agosto in alto intervista a Didier Deschamps che dice questa Juve vale la mia Pogba si può sognare la squadra di Allegri ricorda quella che vinse la Champions del 96 Mbappé non è messi ma fa parte della stessa categoria un fuoriclasse dice il tecnico campione del mondo la polizia di Las Vegas Ronaldo sarà sentito gli agenti le prove non sono sparite e oggi l'asso portoghese torna ad allenarsi verso il derby Ingenio Savicevic decide Pippita e Leonardo ora scopra il nuovo Kakà casa Inter nessuno corre come Brozovic via dalla Croazia e già con Spalletti e poi le panchine di serie A Ventura Chievo la nuova sfida dell'ex CT sarà la salvezza Ribaltone Genoa via Ballardini preziosi ripesca il solito Juric mondiale donne in Giappone l'Ital Volley torna in campo tra Russia e Stati Uniti servono tre set per approdare alla Final Six giochi 2026 Milano Cortina la candidatura ora è ufficiale Malagò eletto membro del Comitato Olimpico Internazionale cambiamo quotidiano andiamo sul Corriere dello Sport esclusivo Veltroni intervista Bonucci che dice allenerò la Juve ecco dove ho sbagliato sono tornato perché qui è casa mia e riesco a dare il massimo il mio sogno è essere l'Allegri del futuro di spalla Genova Carezza Azzurra Malcini porta la nazionale nella città che lo fece grande per aiutarla a rialzarsi dopo il crollo del ponte Morandi in alto Carlo Sposa Napoli De Laurenti Ancelotti vuole restare sei anni il futuro è nostro e poi altre notizie come avete visto via Ballardini il Genova torna Iuric Chievo Ventura arriva la firma e poi Moratti vedo bene Marotta all'Inter Lopeteghi all'angolo il Real pensa ad Antonio Conte giochi 20-26 primo sì per la candidatura di Cortina e Milano chiudiamo con tutto sport con questa foto doppia di Andrea Agnelli e Massimo Moratti Juve qua la mano Moratti il rapporto con Agnelli affettuoso non cancello calciopoli non serbo rancore guardo sempre la Juve per Ronaldo Marotta all'Inter lo apprezzerei molto in alto Genova nel cuore al Ponte Morandi toccante omaggio degli azzurri commozione e lacrime stasera l'amichevole con l'Ucraina in Serie A il derby secondo il Genio esclusiva con Savicevic il Milan gioca meglio Iago Falke conferma rinnovo vicino con il Torino pazzesco poi Genoa Juric Ventura dice sì al Chievo e poi Sabatino gol che Italia pronte al Mondiale nazionale donne 1-0 nel test con la Svezia in basso volley una vittoria sulla Russia vale già le Final Six per il basket Fiat Torino al debutto nel nuovo Palavela e poi per le Olimpiadi Trionfo Italia Malagò eletto membro CIO per sempre noi ci fermiamo per la pubblicità prima le previsioni del meteo poi torniamo per leggere i quotidiani di casa nostra seconda parte di mattino 6 siamo pronti a entrare all'interno delle pagine dei quotidiani di casa nostra ripartiamo come vedete alle mie spalle dalla pagina Abruzzo del centro con l'emergenza abitativa Abruzzo sfratti in aumento dell'80% la più colpita è la provincia di Pescara questa mattina alle 10 presidio degli affittuari in piazza Sacro Cuore queste sono le tabelle riassuntive proprio di questa emergenza abitativa che c'è in Abruzzo andiamo avanti torna la casa del gusto con i sapori del territorio invece di lato chiedi ecco il super computer contro i crimini sul web andiamo avanti ed entriamo all'interno della pagina di Pescara l'azienda edile apre come vedete le assunzioni apre in città e fa subito assunzioni ditta specializzata in interventi senza ponteggi mette a disposizione otto posti e per questo le nuove opportunità vengono giustamente definite così in basso la nuova attività cancella il bar Brasile l'insegna storica avviata negli anni 60 è stata una delle gelaterie più frequentate della città andiamo avanti restiamo in provincia di Pescara a Brittoli per andare a leggere questa notizia soldi spariti ex sindaco sotto processo il PM chiede 14 mesi per Di Paolo denunciato da un imprenditore italo-canadese che gli aveva affidato 4 milioni a centro pagina Rancitelli sequestrate auto moto e armi rimossi 10 veicoli e motocicli senza assicurazione trovati 5 coltelli e una mazza da baseball in basso viaggiatore accolti dai cani antidroga aeroporto e controllo della polizia di frontiera sui voli in arrivo da Malta e da Girona e poi sempre a Pescara bar e ristoranti tavoli all'aperto in arrivo nuove regole per tutta la città non solo i locali del centro la nuova disciplina si estenderà anche ad altre tre zone ogni area sarà caratterizzata da colori e materiali diversi che saranno indicati dal comune in basso sportello unificato file attese in comune piazza Duca d'Aosta in affanno anagrafe e urp l'assessore di Carlo potenzieremo i quartieri a pagina 19 i negozianti di via Terno zero incassi per il cantiere lavori a sighiozzo per fogne e marciapiedi il comune rispettati i tempi e poi stop alle auto via Ferrari da domani chiusa ogni notte intervento di rifacimento riguarda 12.000 metri quadrati di asfalto e durerà 5 giorni dalle 21 alle 7 pagina 20 la protesta ascensore rotto uno studente disabile a casa Misticoni 17enne su una carrozzella non voglio più farmi portare in classe a braccio a scuola non ci torno la replica della dirigente pronti a spostarlo nell'altro istituto scendiamo nella pagina Loredana il suo ultimo pensiero per Admo la presidente regionale De Angelis ricorda la giornalista morta improvvisamente a Milano chatte del fino d'oro oggi la cerimonia per i 12 premiati consiglio comunale solenne alle ore 10 ci spostiamo di pagina andiamo a Montesilvano gli albergatori uniti non siamo il bancomat degli amministratori reinisi federalberghi primo un piano strategico per il turismo l'assessore De Vincentis abbiamo fatto tanto senza nuove tasse e poi le parole di Orsini e una tassa di scopo non può essere ancora un tabù cambiamo cambiamo pagina siamo a città Sant'Angelo le imprese ucraine alla scoperta proprio di città Sant'Angelo il presidente della camera di commercio di Kiev guida la delegazione in Abruzzo Florindi dice è un'occasione d'oro altre notizie che arrivano da quest'area a Villa Carmi il nuovo centro anziani il comune cerca dei locali cambiamo pagina e andiamo a Francavilla al mare fondi bloccati addio Ponte sull'Alento dopo la decisione del governo sul masterplan Abruzzo congelato per almeno due anni il progetto di strada ciclo pedonale in basso a San Giovanni Tiatino pergamena del comune alla campionessa Alice Capozucco andiamo avanti siamo nell'area Vestina ai familiari Rigopiano non diventi uno spot elettorale il comitato vittime dopo le dichiarazioni del presidente della provincia di Marco se era davvero un dolore insuperabile avrebbe fatto bene a dimettersi e questo è lo stralcio da cui si parte per questa risposta evidentemente in a centropagina appenne centro diurno disabili i genitori chiedono le risorse per il Paolo VI in basso a Scafa i fratelli Petrilli si riabbracciano a Scafa furono dati in adozione per decenni non si sono mai conosciuti ma Peppino li ha ritrovati tutti bella storia e poi l'assalto alla Villa dei Martelli arrestato in Romania il sesto bandito in manette una figura di spicco della gang era da alcuni familiari a Craiova l'altro capo non risponde al giudice tra poco vedremo anche il servizio era fuggito nel suo paese ma le intercettazioni telefoniche lo hanno incastrato per dieci anni abitato a Lanciano tra Corso Roma e Santa Croce secondo i riscontri avrebbe avuto un ruolo rilevante nella rapina a casa dei coniugi insieme ad altri tre complici mentre altri due attendevano fuori e allora andiamo a vedere il servizio che riassume proprio la vicenda con l'arresto del sesto componente della banda si era rifugiato in Romania il sesto uomo coinvolto nella rapina ai coniugi martelli di Lanciano Marius Adrian Martin 34enne romeno con precedenti per associazioni a delinquere reati contro la persona e patrimonio era fuggito subito dopo il colpo il GIP ha firmato il mandato di cattura europeo l'uomo che abita a Lanciano da una decina d'anni era già noto alle forze dell'ordine fu arrestato nel 2015 per associazioni a delinquere finalizzate ai furti di auto in abitazione ricettazione e distorsione nell'ambito di un'inchiesta della procura di Lanciano a Craiova in Romania Martin è stato fermato dalle forze dell'ordine locali sul posto c'è un investigatore del servizio centrale operativo della polizia di stato per l'attivazione delle procedure di estradizione gli inquirenti non hanno dubbi è lui l'organizzatore del colpo alla villa dei martelli la notte del 23 settembre scorso Martin è il romeno con maggiore esperienza criminale del gruppo è lui il capo della banda che coinvolgeva e reclutava gli altri è entrato nella villa facendo eruzione assieme a Colteano questa è l'ipotesi investigativa attorno alla quale si sta ricostruendo l'azione delittuosa il gruppo era monitorato dai carabinieri della compagnia di Lanciano con il gps installato sulle auto utilizzate per compiere i furti con spaccata ai bar del comprensorio poi improvvisamente l'escalation di violenza con la feroce rapina al medico in pensione alla moglie adesso si può dire che la banda è stata sgominata presi i sei romeni ritenuti responsabili del colpo più il fiancheggiatore che aiutò l'autista del gruppo a tentare di sfuggire alla cattura nascondendosi nelle campagne di località Santonofrio oltre a Martini in attesa di essere stradato in Italia quattro sono in carcere a Lanciano e uno quello ritenuto responsabile di aver tagliato l'orecchio a Niva Bazzan è detenuto in carcere a Caserta mentre i primi hanno parlato Colteano invece si è avvalso della facoltà di non rispondere al GIP e allora su questa notizia vediamo anche come tratta questa notizia il messaggero la mente delle bestie presa in Romania Marius Adrian Martin 34 anni era fuggito a Craiova dopo la cruenta rapina nella casa dei coniugi Martelli dopo il colpo ha trovato risfugio nella casa dei familiari Alessandro Bogdan Colteano ieri non ha risposto al giudice tra poco ovviamente leggeremo anche approfonditamente il messaggero ma continuiamo con il centro tragedia a Farah Figliorum Petri padre di due bimbi cade dall'albero e muore fatale un volo di oltre due metri per un operai in pensione di 58 anni oggi alle 16.30 l'addio a Mario Mammarella e poi il vastese crocevia del traffico di droga ecco le motivazioni della sentenza che ha inflitto 75 anni di carcere a 10 imputati Gian Giacomo il presidente del tribunale Bruno Gian Giacomo dice questo tribunale lavora cambiamo pagina l'ordine della Minerva va a Mogolle Bruno Vespa il rettore Caputi premia il rapporto con l'Abruzzo un vanto per l'università la cerimonia il 12 dicembre con l'inaugurazione dell'anno accademico in basso voto in provincia è già scontro tra i candidati di premio centro-sinistra inconcludente pupillo annuncia in partenza i lavori per i nuovi asfalti a pagina a pagina 28 più autobus e parcheggi nelle aree vicine al mare ortona la giunta comunale programma il rivoluzione del traffico della zona costiera il sindaco Castiglione bisogna educare i residenti all'utilizzo dei mezzi pubblici andiamo a Teramo una pellicola salverà il teatro romano rivestimento invisibile proteggerà le parti più delicate della struttura che tornerà ad ospitare spettacoli ed eventi culturali previsto l'allestimento come leggiamo di uno spazio a 600 posti con una vasca piazza e delle passerelle i tempi dell'intervento il sindaco d'Alberto dice ora dobbiamo accelerare caso Gran Sasso l'acqua si può bere ma servono opere guerriero i lavori finanziati anni fa con 80 milioni non sono stati efficaci la messa in sicurezza non è più rinviabile anche in questo caso allora ci andiamo a vedere il servizio della nostra redazione l'acqua del Gran Sasso distribuita da Ruzzoreti sul territorio Teramano è buonissima di ottima qualità e non affatto inquinata lo precisa la procura della Repubblica di Teramo che giorni fa ha aperto un'indagine sui punti di captazione vicino ai laboratori di fisica nucleare sequestrandone uno il senso dell'indagine spiega il procuratore Antonio Guerriero è quella di denunciare il serio rischio che incombe sulle sorgenti acquifere a causa della inadeguata impermeabilizzazione tra queste e i laboratori e il traforo del Gran Sasso il reato che l'indagine della procura di Teramo vuole evidenziare è il reato di pericolo a noi interessava evidenziare all'Abruzzo intero Abruzzo che ha un problema abbiamo due strutture di livello nazionale che sono il laboratorio e che è la galleria beni fondamentali per l'economia per la cultura per la ricerca dell'Abruzzo e dell'intera nazione che noi non vogliamo assolutamente toccare anzi valorizzare ma di queste due strutture devono essere resi compatibili con altri tanti beni primari che sono l'ambiente e la salute perché stanno all'interno di un'enorme spugna di circa 1000 km quadrati da cui arriva l'acqua che ristora l'intero Abruzzo il procuratore Guerriero ricorda anche che quasi 18 anni fa furono spesi sotto la gestione Balducci 80 milioni di euro per mettere in sicurezza e impermeabilizzare traforo e laboratori lavori inadeguati e parziali che non hanno risolto il problema del rischio contaminazione con quel fiume d'acqua che scorre sotto le due infrastrutture questi lavori non sono stati completamente attuati in parte sono stati fatti ma non completamente e lo stesso riguarda le gallerie per cui furono stanziate i difondi che prevedevano la impermeabilizzazione di tutta l'area perché sotto la galleria c'è un fiume d'acqua che arriva nel versante Terraman e nel versante Aquilano di questo fiume d'acqua doveva essere impermeabilizzato l'intera galleria di 12 km è stato impermeabilizzato a meno questo è l'accertamento un chilometro solamente per cui chiaramente se ci stanno degli incidenti nella galleria c'è il pericolo che queste sostanze che sono trasportate possono finire in queste nuove fiume d'acqua altrettanto adeguate in laboratorio se ci sono esperimenti scientifici con sostanze pericolose anche qui va predisposto un adeguato isolamento per evitare che questi esperimenti scientifici possano deminare pericolo per la salute e poi la raccomandazione finale del procuratore guerriero è i cittadini nessun allarmismo bevete l'acqua del ruzzo con tranquillità io la bevo tutti i giorni continuiamo la lettura del quotidiano il centro con questa notizia che arriva da Giulianova trova e restituisce portafogli con 410 euro bel gesto di un commerciante ridà il sorriso a un'anziana costretta a fare le pulizie davvero un bel gesto andiamo avanti spiaggia sparita a Pineto Nord si piazzano i sacchetti di sabbia così gli stabilimenti balneari provano a difendersi dalle mareggiate della brutta stagione in attesa che vengano installate le scorriere di protezione finanziate con quasi un milione tagli al masterplan anche Silvi Rischi al centro-sinistra rischio gli interventi di riqualificazione del paese e di sistemazione delle strade all'Aquila tentato anzi a Sulmona siamo nella pagina dell'Aquila ma siamo a Sulmona tentato omicidio usura famiglia in cella moglie marito e figlio e nonna pretendeva interessi del 240% su un prestito la vittima è stata poi picchiata dalla donna e a centro-pagina vigilanza privata contro la movida violenta Mariotti dell'Ascom lancia il progetto Sulmona Sicura costi a carico del comune e dei gestori dei locali in basso a Celano due ambulanze nel mirino dei teppisti i vandali hanno danneggiato i mezzi di soccorso dei volontari della misericordia a pagina 33 a proposito di ambulanze la denuncia a 7 ore in attesa dell'ambulanza l'Aquila al tribunale del malato grave caso di un anziano paziente dimesso chiesta la verifica delle convenzioni di trasporto tra ASL e le associazioni locali il capo della Nissan Italia fa lezione all'università si tratta dell'ingegnere Aquilano Mattucci in basso il sindaco dell'Aquila Biondi sulla ricostruzione garanzie da Roma il sindaco ha incontrato il sottosegretario Giorgetti e ha affrontato anche il problema delle tasse e poi viadotti in autostrada ponti a rischio sulla A25 disagi in arrivo possibile chiusura del tratto da Cocullo a Pratola imporrà gli automobilisti l'attraversamento di Sulmona e di Anversa cambiamo quotidiano adesso andiamo sul messaggero i pilastri che si sgretolano il governo si corregge scongiurato lo scippo dei fondi masterplan in arrivo un emendamento Lolli rassicurato dal ministero per il sud i 200 milioni per l'autostrada non saranno sottratti ad altri lavori e poi le reazioni Forza Italia all'attacco un pasticcio targato Movimento 5 Stelle e Partito Democratico la pagina di Pescara che riprende la questione degli sfratti record e case sfitte il paradosso Pescara maglia nera in Abruzzo in Italia per numero di sentenze l'aumento del 80% in un anno crea un'emergenza sociale morosità incolpevole insostenibilità dei mutui e precarizzazione del lavoro alla base del fenomeno Unione Inquilini oggi sarà in piazza strade ad ostacoli intanto slittano domani i lavori in via Ferrari i fondi a rischio ma il piano per l'area di risulta va avanti domani riprende il confronto in aula Presutti punta l'approvazione e aspetta le scelte del governo sui tagli rimaniamo a Pescara procedure più snelle per i Deor la commissione commercio al lavoro sulle nuove norme il presidente Gian Pietro uniformare centro e periferie altre notizie droghe auto non assicurate denunce e sequestri arrancitelli operazione straordinaria dei carabinieri il quartiere dello spaccio è stato passato al setaccio e poi due nuovi ufficiali per le fiamme gialle cambiamo pagina 2018 da record per il blu serena 1.200.000 presenze nelle strutture del gruppo guidato da Silvio Maresca 25% in più di occupati a centro pagina Loredana Ranni uccisa forse da un infarto oggi l'autopsia le 6.22 una mail alla redazione poi il decesso il dolore del papà il cordoglio dell'ordine dei giornalisti e del colleghe di spalla i soldi spariti dell'emigrato condannate l'ex sindaco di Brittoli che abbiamo letto prima Claudio Di Paolo questa è la richiesta una condanna un anno e due mesi di reclusione l'Aquila decennale del terremoto 2009 che ci sarà ovviamente l'anno prossimo la macchina si è messa in moto pronta la bozza del manifesto che costituirà la cornice nella quale inserire tutte le iniziative a centropagina progetto case ripartono i pagamenti delle bollette in basso assolto dirigente provinciale niente corruzione Francesco Bonanni era imputato insieme al costruttore Mario Mariani anche gli scagionato cambiamo pagina sempre all'Aquila demoliti i palazzi dispaccio e prostitute ruspe nel complesso Erp che si affaccia su via di Vincenzo il sindaco negli anni era diventato luogo di degrado attende la ricostruzione anche il complesso di via Amiternum due civici già battuti il provveditorato sta portando avanti l'iter bel vedere l'altra emergenza proposta dell'Ater per alloggi sostitutivi e poi in basso uffizi visibili grazie all'Università dell'Aquila l'Ateneo protagonista nel progetto del ticket elimina code il team Aquilano è stato preferito pensate ad altri provenienti dalla Silicon Valley che evidentemente non sono così dei fenomeni come spesso si fa passare andiamo a Sulmona usura intera famiglia finisce in carcere commerciante aggredita per un debito quattro arresti donne di etnia Roma accusate anche di tentato omicidio la vittima una 55enne proprietaria di un autolavaggio in Viale della Repubblica secondo la polizia poteva rimetterci la pelle altre notizie in basso ad Avezzano De Angelis e ora apro il nuovo municipio sempre ad Avezzano cocaina e hashish ennesimo arresto andiamo a Chieti il giudice blocca boccia la delibera i parcheggi restano al privato disapplicato il provvedimento del consiglio Blue Parking mantiene la gestione dell'appalto il comune pronto all'appello non si esclude l'accordo dopo la guerra a colpi di carta bollata incidenti sul lavoro cade mentre pota un albero e muore tragedia a far filiorum Petri e poi il sindacato di polizia appello del COISP serve più personale va garantita la sicurezza della provincia abbiamo visto la pagina dedicata all'arresto del sesto componente della banda che ha assaltato la villa dei coniugi Martelli e allora possiamo cambiare pagina e andare a Teramo l'acqua del Gran Sasso non è inquinata si può bere il servizio che abbiamo visto prima nella vicenda dei laboratori di fisica vicino alle sorgenti del Ruzzo è intervenuto il procuratore capo guerriero che ha rassicurato l'intera popolazione abruzzese teatro romano il recupero stavolta è partito e poi vedremo anche nel dettaglio come in basso crisi aziendali 200 posti di lavoro ad alto rischio a Giulia Nova pugna il figlio quattordicenne gli sbatte la testa i vicini hanno lanciato l'allarme spaventati dalle grida del ragazzo denunciato il papà marocchino di 43 anni l'uomo è andato su tutte le furie per una risposta sgarbata del giovane in precedenza aveva picchiato anche la moglie spaccata al bar Fadini scassinate le slot un bar che è tempio del tifo giallorosso scendiamo andiamo in vibrata abbandono di rifiuti a Martinsicuro arrivano le trappole e poi ad Albarriatica espropri conto di 12 milioni per Alba andiamo adesso restiamo in provincia di Teramo per vedere alcuni titoli del quotidiano la città ritornano le parole del procuratore di Teramo guerriero niente più scuse sull'acqua del Gran Sasso lavori da 80 milioni non sono stati eseguiti del tutto ecco perché non ci sono più scuse per i lavori evidentemente da completare per la provincia di Teramo sfida d'Alonso di Bonaventura doppia fumata bianca ieri sera il sindaco di Crognaleto e quello di Notaresco sono candidati alla presidenza dall'altra parte Baltur e Flixbus ufficializzano il matrimonio accordo strategico tra l'azienda di trasporto Teramana e quella tedesca per collegare più destinazioni il progetto il teatro romano sarà la casa dei Teramani questo è il titolo nel piano dello studio Bellomo una struttura sempre visitabile e capace di ospitare eventi e spettacoli corsa contro il tempo per il sindaco d'Alberto siamo in grave ritardo ora si deve correre per arrivare al progetto definitivo che dovrebbe essere pressa poco così è una tavola del progetto ma rende parzialmente l'idea di quello che potrebbe essere il teatro romano sempre a Teramo il leone di Crocetti violato un'altra volta notte di vandalismo in mezza città accedere di notte alla villa è troppo semplice serve un servizio di controllo e questo è Valdo di Bonaventura che ripulisce il leone dalla sporcizia l'allarme della CISL a rischio centinaia di posti di lavoro l'allarme per il settore metalmeccanico e poi l'attacco a Confindustria per l'immobilismo questo è Fabio Benintendi segretario provinciale della CISL per la provincia due giorni sulla cultura della prevenzione sabato e domenica torna la campagna e io non rischio che toccherà diversi comuni appunto della provincia di Teramo passiamo allo sport adesso andiamo a vedere ovviamente l'analisi del Pescara che sta stupendo tutti il Pescara è in orbita ora serve l'Adriatico del fino capolista ma decimo nella media degli spettatori lo vediamo così nella scorsa stagione ed era al nono posto quest'anno è addirittura sceso l'anno scorso media 7.571 spettatori quest'anno 6.858 spettatori incide leggiamo anche il numero ridotto degli abbonati 3.663 rispetto allo scorso anno anche nel 2011 fu una partenza in sordina che poi e noi ce lo auguriamo tutti ovviamente da Abruzzesi culminò con la conquista della serie A ma quali sono gli ingredienti l'esperienza al potere una difesa di ferro i vecchietti campagnaro del grosso e balzano sono una garanzia per Pilon per il tecnico biancazzurro vediamo anche il Pescara sul messaggero Pescara la piccola cooperativa del gol la capolista può puntare sul bomber mancuso attuale capocannoniere del torneo poi Cocco a due Monachello Brugman Gravione Macin una vera e propria batteria di persone di giocatori che possono andare in gol Capone intanto operato a Bergamo tornerà tra due mesi in bocca al lupo allo sfortunato esterno d'attacco del Pescara in basso Leocata mondiale alle Paralimpiadi è l'unico atleta Francesco Leocata capace di vincere in due sport diversi complimenti di Mammarella che dice è il mio idolo torniamo anzi andiamo avanti vediamo scendiamo probabilmente in sì in serie C perché il Teramo come vedete cambia modulo tattico dal tridente finora inefficace all'infoltimento dei centrocampisti il DS Federico siamo solo alla sesta si può ragionare con calma e nella foto vedete proprio il direttore sportivo del Teramo Sandro Federico con l'allenatore Giovanni Zichella in alto un po' a sorpresa Avezzano fiducia a tempo per Giampaolo e i giocatori faccia a faccia tra patron Paris giocatori e tecnico che ha lasciato però tutto invariato e dunque si continua con Federico Giampaolo la strada della continuità che spesso paga Di Gennaro e Del Grosso sono gli assi del Lanciano i gol del Bomber e la saggezza del mister vinte tutte le gare e poi per il motociclismo tra Iannone e Dovizioso rispuntano vecchie ruggini andiamo sul centro anche qui vediamo il Teramo in difficoltà Zichella allora passa al 3-5-2 diavolo ancora secco di vittoria il tecnico lascia il 4-3 sperimenta il nuovo sistema di gioco il DS Federico allenatore in bilico pensiamo alla gara di Rimini e poi è morto Maurizio D'Angio notizia luttuosa lo storico segretario del Castel di Sangro segretario sportivo del Castel di Sangro si è spento ieri all'età di 75 anni e in eccellenza il Chieti prepara la riscossa a San Buceto esame torrese Lucarelli debutta la guida dei Nero Verdi stasera contro la Miternina la capolista sfida la terza forza del campionato per proseguire la fuga e invece il Real Giulianova in Coppa Italia con Ferrini Alfadini sfida secca contro il Cassino valida per i sedicesimi di finale sempre in serie D il patron Paris dà fiducia a Lavezzano nessuna rivoluzione fiducia a Federico Giampaolo e ai giocatori sempre in D la vastese fa quadrato attorno all'allenatore Palladini domenica all'Aragona arriverà il Forlì e per la promozione oggi la Coppa Italia Virtus Ortona sei mesi di stop a Bellè noi ci fermiamo qui io vi ricordo la prima edizione del nostro telegiornale alle ore 14 mattino sei invece vi darà appuntamento a domani mattina sempre puntuali alle ore 8 è tutto buona giornata ciao a tutti Grazie a tutti.